Lo ha svelato lui stesso, con Albano che si è fatto ritrarre posando accanto al suo amore ritrovato. Grande stupore, ma anche tanta ammirazione dai fan. Albano, da decenni, fa sempre notizia. Amore, figli, carriera, qualsiasi cosa che riguarda il cantante pugliese, rappresenta un modo per destare curiosità e questa è una prerogativa che appartiene ai personaggi pubblici molto amati. Anche se la cosa può portare a volte a creare delle news fuorvianti o delle reazioni al di sopra delle righe. Qualche mese fa ad esempio lo stesso Albano ha dovuto smentire delle illazioni circolate sul suo conto in merito a diversi aspetti. Non è vero che è alle prese con una brutta malattia, e non è vero che ha un cattivo rapporto con Romina Power, con la quale anzi continua ad esibirsi in giro per il mondo. Né con Loredana Lecciso, che è la sua attuale compagna e con la quale l'amore è anche più forte che in passato. E non ha nulla neppure contro Imaneskin. Tutte smentite che risalgono a prima dell'estate e che hanno richiesto un intervento in prima persona da parte di Albano, che del gossip vero o falso che sia non ne può più. Però non possiamo fare a meno di citare quanto avvenuto di recente, con lui che si è mostrato sorridente accanto ad un suo grande amore passato tornato attuale. I fan che vorrebbero che Albano e Romina si rimettano insieme sono tantissimi. Ma questa cosa non accadrà mai. E non è lei il grande amore che è di nuovo attuale. Lui è felicissimo con Loredana Lecciso e con i loro figli, Jasmine e Bido. Ma c'è anche qualcun altro. Anzi, qualcos'altro. Lo scatto non mente e ci mostra il cantante di Cellino San Marco felice e rilassato come non mai. Come solo la produzione di vino, la raccolta dei prodotti della terra e lo stare immerso nella natura sa dargli. Poco meno di trent'anni fa l'artista acquistò un veicolo. Si tratta di una Range Rover 2.5 turbodiesel 5 porte DT, veicolo che aveva un prezzo di poco più di 87 milioni di lire. L'auto aveva bisogno di essere restaurata, dopo un periodo in cui non era più stata utilizzata. Se ne stava riposta in un garage della sua tenuta di Cellino in preda alla incuria che caratterizza gli oggetti che non vengono più utilizzati da tempo. Tenere quel mezzo così era un gran peccato, anche alla luce del suo valore. E così Albano ha rispolverato questo suo vecchio amore riportandolo a nuovo e facendo in modo che degli specialisti riverniciassero il suo Range Rover e ne sostituissero i pezzi che andavano cambiati. Ora la macchina è come nuova ed è tornata in vita, pronta all'uso.